Che bella sorpresa anche quest'anno la presenza degli atleti del pellegrinaggio Macerata Loreto che hanno portato la fiaccola della pace a benedire al Santo Padre Papa Francesco. Ciò che mi ha colpito, questa sensibilità di Papa Francesco, perché subito mi ha detto allora sabato farò la telefonata a voi tutti, certamente comunque sarà presente nel nostro pellegrinaggio con la sua parola e con la sua benedizione. Torniamo a casa contenti e rincorati, gli atleti correranno di più e noi ci prepariamo al grande cammino di sabato 9 giugno fino a domenica mattina alle ore 6 a Loreto. Grazie a tutti.